buongiorno benvenuti a questa sedia stampa di oggi mercoledì 18 luglio vediamo quali sono i temi fondamentali sui giornali ma uno dei temi fondamentali sui giornali è un non tema che cosa è successo è successo una tragedia in mare e cioè sono morti una mamma un figlio e un'altra persona e alle diciamo attaccati alle coste libiche secondo una ong che c'era molto con l'italia perché l'italia gli ha chiuso i porti prima lo aveva fatto minniti oggi lo sta facendo in maniera diciamo sistematica salvini questa ong dice i libici hanno lasciato morire la mamma e il bambino perché avrebbero salvato 160 persone da un barcone avrebbero chiesto alla mamma il bambino di uscire dal barcone secondo quello che dice l'ong loro non sarebbero scese dal barcone loro lo avrebbero affondato i libici il barcone di fatto uccidendo queste persone sono poi continua l'ong la guardia costiera libica dice l'ong sono assassini arruolati dall'italia ma andiamo avanti saviano che non perde occasione per stare zitto forse meglio che parla rispetto a quanto scrive perché almeno a parlare commette meno errori di sintassi di quanto faccia quando scrive non corretto dice che salvini il nostro ministro degli interni prova eccitazione nel vedere morire un bambino salviano con un linguaggio disgustoso e non voglio dire altro sostiene che il nostro ministro riceva eccitazione nel vedere morire un bambino qua l'unica eccitazione mi sembra come nota oggi molto chiaramente la verità di maurizio belpietro è quella del cosiddetto padre zanotti che si trombava i propri migranti e prendeva 5 6 milioni di euro di agevolazioni di finanziamenti dai comuni di bergamo e non solo per fare il business raccontato da giordano in profugopoli ci sono delle video in cui si vede che deve rapporti sessuali con i suoi diciamo migranti uno di questi si considera stuprato ma quindi di eccitazione caro salviano occupati riguardo ad altri non a salvini che addirittura la decisazione ce l'avrebbe nel vedere i bambini morire la cosa si chiude qua perché salvini dice intanto che querela saviano e fa bene perché non ci si può sentir dire una cosa di questo tipo ma chi cazzo sei ma come ti permetti di dire una cosa di questo tipo nei confronti di un ministro ma anche di una persona qualsiasi ma a parte questo e le querelle di saviano salvini dice non è andata così è tutta una fake news quello che dice lo ng e ovviamente è diffamatorio quello che dice saviano ma oggi basta leggere repubblica repubblica che certo non è tenera nei confronti di questo governo perché su quella barca di salvataggio della guardia costiera libica bene su quella barca c'era una giornalista tedesca che viene intervistata la repubblica e che dice una cosa molto semplice quelle accuse sono false e sapete perché sono false perché io ho visto il reschio da parte della della dei 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 libici hanno preso tutte le persone dopo che si hanno appurato che la nave che la barca la barcaccia era vuota l'hanno affondata quindi forse sono morti tant'è che dice la giornalista ne avevamo visti di morti prima in mare sono morti prima che arrivasse il salvataggio dei libici d'altronde io vi voglio segnalare una cosa è un grafico del corriere della sera nel 2006 e 16 sono morti nel mediterraneo dalla libia all'italia insomma quella fascia del mediterraneo per venire nei nostri paesi 5.143 persone nel 2017 quando abbiamo iniziato a restringere anche se non sufficientemente le nostre i nostri approdi sono morti 3.139 persone un numero incredibile nel 2018 quando abbiamo ridotto drasticamente grazie prima minniti e oggi a salvini l'afflusso di migranti in europa i morti sono dimezzati è vero che l'anno non è finito ma siamo passati a 1.443 questo che cosa porta meno traffico di barchette su quel mare perché sanno che non potranno arrivare in italia non potranno essere salvate le ng meno morti quando le ng prosperavano per usare i termini diciamo di saviano sono morte 8.400 persone quindi di che stiamo parlando è evidente che più persone provano arrivare in italia e in europa e più rischiano di morire meno cercano di arrivare perché sanno che non verranno accolte meno muoiono è un fatto purtroppo banale di maio ieri ha preso a minacciare il sistema bancario la deve pagare perché ha avuto un atteggiamento arrogante sono tutte grandi belle posizioni che secondo me gli faranno avere voti tra i suoi sostenitori d'altronde deve fare qualcosa se non è per non essere schiacciato dalla concorrenza salviniana ma la vera storia di di maio oggi ce l'ha il giornale di cui sono vice direttore ve lo ricordo sempre il mio conflitto di interessi quando faccio la zuppa di porro dice che assume come segretaria particolare la sua amica assia 26 anni attivista della prima ora del movimento 5 stelle e per ora al ministero del lavoro non ha ancora inserito il suo curriculum e la signorina guadagna 6 mila euro al mese 72 mila euro guadagna perché li paghiamo noi la cosa incredibile è che l'attivista del movimento 5 stelle che non è riuscita a essere eletta si è candidata e amica di di maio l'ha portato nella sua segreteria perché questo oggi lo spiega di maio e poi dopo diventa la sua segretaria particolare al ministero senza un curriculum se non quella di averlo lavorato per di maio da attorno a 26 anni guadagna 6 mila euro al mese allora che cosa vi voglio dire io io voglio dire semplicemente che poi di maio ha fatto un posto questa mattina contro il giornale dicendo vergognatevi fate schifo è vero noi ci vergogniamo e facciamo schifo però io voglio fare una serie di domande di maio primo se questa persona di 26 anni l'avesse presa non so ma stella l'avesse presa berlusconi una ragazzina piacente di 26 anni che aveva l'unica caratteristica di essere dello stesso paese di di maio e di non avere nessuna diciamo esperienza se non quella di aver lavato lavorato per di maio cosa avrebbe fatto il momento 5 stelle è lo stesso movimento 5 stelle che vuole tassare le pensioni superiori ai 4000 euro perché considera quelle pensioni pensioni d'oro e una persona che considera una pensione d'oro dopo 40 anni di lavoro a 4000 euro può essere che sia d'oro non considera che una ragazzina di 26 anni senza avere alcuna esperienza in nessun posto di lavoro se non in quello di di maio 6000 euro al mese forse non è esattamente quello che ci si aspetta io sono d'accordo io sono felice per lei sono felice per assia io a 26 anni non guadagnavo 6000 euro al mese ma va benissimo se li guadagna lei mi chiedo ma nella logica pauperistica dei di maio come avrebbero considerato un'assunzione di questo tipo se l'avesse fatta qualcun altro io chiedo soltanto questo io chiedo soltanto questo a di maio prima di dire a noi che ci vergogniamo e cosa avrebbe fatto il movimento 5 stelle se avesse trovato una ragazzina di 26 anni segretaria di un un purto politico berlusconi mastella avesse trovato questa questa sua segretaria particolare e non avesse trovato il curriculum all'interno del ministero e postato cosa avrebbe detto di maio cosa avrebbero detto i suoi amici di di questa ragazzina che cosa avrebbero insinuato cosa avrei visto sul blog dei 5 stelle come l'avrebbero massacrata questa ragazzina se fosse stata allora noi ci dobbiamo vergognare perché poniamo un dubbio e ci chiediamo come mai questa qui è diventata segretaria di di maio particolare segretaria non personale segretaria pagata da voi al ministero ci avete fatto due palle così con i costi della politica e la segretaria della paghi 6.000 euro ci avete fatto due palle così sul fatto che i tuoi parlamentari devono essere pagati di meno e questa la paghiamo 6.000 euro va benissimo facciamo così andiamo avanti io sono per questa idea paghiamo tutti tantissimo e siamo felici come ai vecchi tempi oggi leggo una notiziona sul messaggero che bertolaso viene assolto tu dici no ma ancora si viene assolto sapete perché perché ci sono voluti due gradi di giudizio per stabilire che bertolaso era innocente nella dall'accusa di omicidio colposo per il terremoto dell'aquita l'aquila in quanto capo dei grandi rischi della e della protezione civile veniva da un magistrato veniva accusato di omicidio colposo perché non l'aveva previsto non aveva adottato tutti gli strumenti giusti per prevederlo allora se questo è il mondo va bene la segretaria assia di di maio va bene che bertolaso passi dieci anni accusato di omicidio colposo il grande ladro assolto da tutto quanto vi ricordate tutte le cose il fango su di su e va benissimo che di maio si prende la sua segretaria tra l'altro sul decreto dignità su quella merda del decreto dignità ricordatevelo un disastro lo pagheremo fra cinque anni come oggi paghiamo gli esodati della signora fornero che cosa sono stabilito riduciamo dello 0,5 per cento chi assume a contratto un contratto a tempo indeterminato come se da una parte di dici ti riduco dello 0,5 per cento e poi vedremo però poi dopo se ti permetti di licenziarlo di momento a tre anni l'indennizzo se tu lo licenzi allora cosa sta succedendo che io ti rendo più difficile dello 0,5 per cento i contratti a tempo determinato se poi contratti a tempo determinato sui compagato la sovratassa dello 0,5 li fai diventare contratti a tempo indeterminato ti tolgo lo 0,5 che tu hai pagato questa è la logica somma zero secondo voi questi hanno mai lavorato in un'azienda secondo voi questi hanno idea di che cosa sia un'impresa secondo voi in questo modo si crea un posto di lavoro che sia uno daily mail di oggi giornale popolare che io adoro degli inglesi cacciaroni c'è due grandi notizie la prima che è pagina 3 di daily mail gli omega 3 che io prendo tutte le mattine non servirebbero a nulla sapete quelle pillole gli omega 3 che servono l'olio di pesce che servono per ridurre gli attacchi cuore colesterolo sono una minchiata hanno fatto una ricerca e sostengono che valgono nulla molta attenzione alle fake news dei giornali sulle ricerche mediche questo l'ho imparato seconda notizia che è quella che conta su cui apre il daily mail diceva il cancelliere osborne prima della brexit che si sarebbero persi con la brexit 800 mila posti di lavoro bene sapete quanti sono i posti di lavoro che si sono creati in inghilterra da quando è iniziato il processo della brexit di cui si occupa oggi in prima pagina preoccupato il correo della sera bene se ne devono perdere 800 mila ne sono stati creati 610 mila alcuni di voi mi hanno scritto in posta ma nicola se fossero ancora in europa altro che 600 mila devi anche pensare che forse ne hanno creati di posti di lavoro ma meno di quanto avrebbero fatto se fossero stati tranquilli in europa può darsi alzo le mani ma una cosa è certa che il disastro e le cavallette che ci ci avevano preannunciato con la brexit non ci sono state in più vi aggiungo che in gran bretagna ci sono 32,4 milioni di occupati cioè il 75,7 per cento della popolazione inglese è occupata in italia se non sbaglio gli occupati sono 23 milioni abbiamo lo stesso numero più bene di abitanti quindi ne abbiamo 23 milioni di persone che lavorano loro 32 milioni strano che noi si riesca ancora a fare questo pil loro nel 75 per cento di occupazione noi il 50 roberta li prendo anch'io gli omega 3 cavolo non ti fidare di quello che ho detto perché l'ho letto sul daily mail e questi giornali sono divertenti ma sulla medicina non mi fido non mi fido molto e a proposito di medicina vi parlo dell'ultima minchiata politicamente corretta è quella degli inceneritori di parma vi è a tutti chiaro che gli inceneritori sono in modo più sano più pulito più ecologico per poter smaltire i rifiuti indifferenziati non ce n'è altro la cosa peggiore metterlo nelle discariche cioè prendere i vostri rifiuti e metterli su un terreno se invece li porti in un inceneritore crei energia elettrica crei anche vapore per acqua calda per fare il tereriscaldamento e da quel camino non escono inquinanti non escono un camino contro 50 mila camini di una città non creano inquinanti secondo tutte le ricerche di tutto il mondo certo alla gente non piace avere rifiuti vicino a casa ma non fanno male bene a parma pizzarotti è stato costretto grazie al cielo a fare questo a completare questo termalizzatore che vuole portare da 160 mila 190 mila le tonnellate di monnezza smaltita tutti contro i vescovi meglio che si occupino della chiesa e degli affari loro che delle cose che riguardano l'ambiente e cose che non li riguardano sapete che il 50 per cento degli imballaggi di cartone carta e plastica che viene fatto dalle aziende alimentari da tutte le aziende alimentari da tutto il riciclo della plastica ce l'abbiamo in grandi capannoni perché quella plastica riciclata non ci facciamo nulla nessuno la usa perché la vendiamo ai cinesi oggi non se la comprano più lo sapete ma non lo sapete quello che fate sapete cos'è non vogliamo il termo realizzatore di parma complimenti come dice martina a belli ideologia pura facciamo zuppa con omega 3 françoise si facciamola io adesso me lo vedete questa zuppa se vi piace vi do appuntamento ovviamente come sempre sul sito nicolaporro punto it per tutte le altre informazioni su di maio voglio andare avanti perché questa cosa della sua segretaria del fatto che il giornale si debba avergognare non la lascio passare così alla Carlona ciao